E' l'esame dell'intelligenza del futuro. Cos'è questa cosa qua? Un'usè. Bravo, bravo, ma no, è una stella. Ciapponi! E' l'ora, Destin, eh? E' l'ora. C'è chi? Un cuoricino. Eh sì, è quel lì. Brava, brava, brava. Eh sì, ok. Allora, stupidotto, adesso concentrati, ne fai andare più. Cos'è? Dai. Un cu? Oh, quasi. Ma decisamente l'era un quadrato. Dove? La scorsa, duemila vatti? Bene. Allora, ti sei pronta? Sì, sì. Per fare l'altra figurena? Che cos'è? Dai, che ti ha il servetti. Dai, sì. Il simbolo dell'amore. Ma porca vaca, ma ma fai, ma sei la vergenza. Ma ti ha guardato, Andre? No, ti ha guardato. Sono troppo brava, ne? Ma vaca, mi chiede, ne è brava, ne? Impara, giù, no. Sei nervoso? Sì, ma sì, eh? Vacca merda. Ma vabbè, ma scusami, c'è la scossa per la punizione. Hai firmato il contratto. Cos'è sta roba qua? Dovina, dai. Dai. Three rig? Ma no, non ho quel lì. Su. Ma sì, ma... No. Non ho la scossa. La scossa, no. Ma... Ma porca miseria. C'è un chilometro? Porca piuttanasia. Ti ho venuto al bar. Ma perché? Hai firmato il contratto, eh? Sì, ma tante cinche euro. Niente cinche euro. Ma porca miseria, ma cosa cerca di fare? Sto cercando di verificare la scossa di un chilometro dentro le persone che non indivinano. Gli effetti della scossa. Ma vada via il che... Ma vada via il che ti, ma vada ti, ma mi sono... Sì, vabbè, se li tengo è cinque euro. Ma io sono il professore responsabile. Vai via. Dai a saperle, era un cretino. Sai ti, quale intelligente, no? Svado proprio dagli occhi. E lei pensa che io sono intelligente? No, in realtà c'è Luca. Peter! Pirla! Vacca di una merda! E dove hai messo il nastro che ti ho aspettato ieri? Che oggi dobbiamo andare a fare il filmino. Dov'è che l'hai messo? Scusa, musico. Sì, sì. Ma la cizia sta lì. Ma vacca, lei è già un cretino! Ma non so chi, che so del povere con la fiora lì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Alla biblioteca è successa una cosa bruttissima. All'inizio era un fantasma. L'hanno visto in dieci persone. È stata una roba bellissima. Come andare a vett, vacca miseria. Faceva volare tutte le cose. È stata una cosa bellissima. Sente, sono molto contento di chi roba lì. Però P e T e che semo digono in di là, verifica e poi ti mandi. No, no. Mi so... Ghegni che ti, ghegni che ti. Tentele tle da no, vabbè. Ti provi con tutto e tle da mai. Dai, su, vieni su e andiamo là e fa il filmino. Magari guste chi me la da. Eh, signor, siamo vicini. Sente, bella cizia, mi guardi da perché mi mandi che te me la da no. Quindi potresti tornare, non so... Domani? Io stavo per dire... In che? E' proprio cretino e deficiente, eh.